La Fontana del Brigando è un ristorante, anche questo nel cuore del Pollino, gestito dai fratelli Fitti Paldi. Da quanto tempo esiste? Sono 11 anni, è aperto nel 2001. Quindi in 11 anni sicuramente avete conosciuto tanta gente. Cosa dicono ovviamente i turisti? Complimenti più belli che vi hanno fatto? Il complimento più bello che ci hanno fatto è che la struttura è molto all'avanguardia su questa zona e poi per i prodotti tipici che gli diamo da mangiare. E con tante, diciamo, l'ospitalità e il benessere che si trova su questa zona. In questo ristorante voi avete portato quello che è un po' la cucina del territorio, ovviamente anche una cucina casalinga che riprende le tradizioni e le prodotti tipici di un'apertura particolare. Ma dipende, comunque è quasi tutto l'anno, però il periodo più giusto, qui diciamo di solito ci sono la tradizione dei funghi porcini. Tantissimi piatti si preparano a base di funghi porcini come il nostro piatto tipico che sarebbe il rascatillo alla brigante. Ovviamente il menù non è fatto di soli funghi, quali sono i prodotti tipici che voi valorizzate con la vostra proposta? Noi valorizziamo molto la nostra cucina locale, antica proprio, con prodotti buonissimi tipo peperoni, fagioli, patati e salumi tipici anche dei nostri posti accompagnati da formaggi buonissimi. Qualche formaggio tipico? Porcino locale, proprio un ottimo prodotto dato anche dai pascoli meravigliosi che abbiamo in queste zone. Suo fratello accennava prima questi rascatelli, che ricetta è? Il rascatillo alla brigante è il nostro piatto forte, diciamo, del nostro ristorante che praticamente è un tipo di pasta fresca che viene preparata a mano con farina, acqua e un po' di sale. Ed è tipo un cavatello, con il condimento di un po' di passato di pomodoro, funghi porcini, provola, fumicata e pancetta. Da preparare è semplice? Qual è il procedimento? Non è un procedimento molto difficile, basta soffriggere un po' la pancetta, aggiungere i funghi porcini e sciogliere la provola fumicata e aggiungere un po' di passato di pomodoro. Altri piatti forti del vostro menù? Abbiamo, diciamo, buonissimo a pasta e fagioli, questi piatti, diciamo, molto locali, poi abbiamo altre novità, tipo fusilli al ragù pure, che sono buonissimi, e molti altri piatti che rispecchiano sempre la tradizione locale. Nella tradizione locale mi sembra di capire che, insomma, i salumi, i formaggi la fanno da padrone, così un po' come la pasta fatta in casa. Voi come la preparate voi? La prepariamo noi, come i fusilli, gli strascinati, i cavatelli, tanti tipi di pasta, tagliatelle, gnocchi, secosette qua. Quindi sicuramente sono prodotti di qualità, garantiti, che, insomma, rispecchiano il fatto in casa, come si suol dire. Certamente. Grazie.